Ciao ragazzi, che effetto fa a essere nel mondo di Shondaland? Per tutti e due, da una parte Grey's Anatomy, dall'altra lo spin-off. Che effetto fa? E' emozionante, facciamo parte di una delle case di produzione televisive più grandi che ci sono mai state, quindi è un momento di orgoglio, di felicità. Sì, 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 anche io molto orgogliosa, sempre emozionata, ogni episodio è una nuova avventura, una nuova emozione, però sì, è un'esperienza bellissima. Qual è il ricordo più bello, o che siete particolarmente legati, di questa stagione, la stagione dove avete interpretato i vostri personaggi? Posso raccontarti di un'esperienza che ho avuto sul set, ho visto uno stunt degli stuntman che si buttavano dal quinto piano, è stato bellissimo. Poi ti rendi conto della grandezza della produzione, perché fanno tutto vero. Spettacolo. Sì, sì. Per me entrare tipo nel bar di Grey's Anatomy per la prima volta. Ah, giusto, anche io la prima volta, quando ho girato nel bar, è stato bellissimo. Sì, esatto, pure le sale operatorie. Sì, tutte le volte che scoprivo una parte nuova del set ero emozionatissima, felicissima, sì, sì, sì. Ed è pazzesco quanto veri, sembrano i vari pezzi del corpo su cui operano e tutto. Ma c'è un personaggio con cui, o un altro attore con cui vi siete trovati meglio a lavorare rispetto a qualcun altro, o anche solo semplice empatia, vabbè, tu con Giacomo... Esatto, sì. Per me è stato Giacomo, abbiamo passato tanto tempo insieme. Poi insieme parliamo questo misto di italiano-inglese che non capisce nessun altro. E come li guardano? Cioè, cosa dicono gli altri quando li vedono dialogare magari in italiano? A volte, tipo, Jesse fa le battute. Jesse mi dice sempre, quando, tipo, dico le cose in italiano, lui ha diretto uno degli episodi, mi dice sempre, cambia le battute, dici le parolacce, tanto non lo sa nessuno, io li vediamo. Sì, quindi no, ridono, scherzano con noi. Io più che altro con Jaina, perché, che fa, interpreta il ruolo di Andy, perché abbiamo passato più tempo insieme sul set e anche, era la persona con cui ho fatto il chemistry read prima di prendere il ruolo, quindi noi abbiamo legato molto velocemente. Poi lei è una persona squisita con cui lavorare, proprio ci si diverte, il set, il mood sul set è molto easy, è molto bello. Cioè, ritornando a te, Stefania, volevo chiederti, è stata un po' una polemica, c'è stata un po' una polemica, dopo l'addio, diciamo, dei personaggi di April e Arizona, ma è una polemica scaturita più che altro sui social, legato al rinnovo contrattuale di Ellen Pompey e tutto quanto. Come si viveva nel, che clima c'era nel, nel set, questo addio, o comunque queste, queste zizzagne emesse dal, dagli haters su internet? Ovviamente c'era un clima generale di tristezza, di tristezza da parte di tutti, però di supporto anche, nel senso che, ovviamente non è bello ricevere dei messaggi cattivi da parte dei fan di lunga data o meno, però la relazione, la reazione viscerale è stata quella da parte dei fan e secondo me a poco a poco magari si abitueranno al fatto che era una cosa che è stata scelta di fare, cioè hanno scelto di fare, hanno preso questa decisione, ci sono stati emotivi dietro a questa decisione e le cose vanno così. Ma non si è incrinato un po' il rapporto tra, tra gli attori o comunque, anche solo inizialmente? No, c'era solamente un clima di tristezza, però questa è la vita degli attori, non sai mai cosa succede, non sai mai quanto durerà un progetto, devi essere, devi considerarti super fortunata di aver avuto la possibilità di interpretare lo stesso ruolo per 9 e 10 anni, non capita quasi mai, cioè capiterà ancora meno secondo me in futuro con tutte queste piattaforme internet, le serie dureranno sempre meno, quindi, cioè, potessi fare io una serie per 9 o 10 anni, chiede, sarebbe una piatta. Con la notorietà avuta appunto da Gas and Atomy, da Station, avete avuto altre offerte, diciamo così, per partecipare ad altre serie oppure avete... Offerte fino adesso no, vedo che si sono aperte un po' di porte, però comunque io adesso devo andare a girare la seconda stagione, quindi sono bloccato, non posso fare niente, esatto, iniziamo a girare a fine luglio, quindi il tempo di andare a fare un altro progetto non c'è. Anche perché c'è stato il cambio di slot, adesso iniziate subito dopo che era senato. Esatto, iniziamo, sì esatto, a settembre, cominciamo. Si è preparato. Si è preparato. Eh, 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 eh.